L'attrice Giuliana De Sio ammette la sua frustrazione senza filtri. Dopo il successo professionale, è giunta la stroncatura repentina. Classe 65. L'interprete salernitana Giuliana De Sio ha collaborato con i registi italiani più talentuosi e celebri. Tra di essi anche Massimo Troisi, Mario Monicelli e Francesco Nuti. E il suo talento le ha fruttato due David Di Donatello, uno Nastro d'Argento, uno Chuck d'Oro ed uno Globo d'Oro. Ha inoltre prestato il volto anche ad alcune fiction televisive. Ad esempio, Il bello delle donne, Il peccato e la vergogna. E, L'onore e il rispetto, è calcato infine numerosi set teatrali. Dal 2022, infatti, Giuliana De Sio è impegnata nella tournée del suo spettacolo, La signora del martedì, di Massimo Carlotto, e non ha alcuna intenzione di appendere i copioni al chiodo. L'attrice si è recentemente raccontata alle pagine di Repubblica, ed ha rievocato alcuni eventi della sua vita che l'hanno decisamente destabilizzata, sia dal punto di vista umano, che professionale. Nonostante la grinta, l'avvenenza e l'indubbio talento sulle scene, Giuliana De Sio ha affrontato un momento di impasse lavorativo. Ed ha riferito a Repubblica. Il cinema è stato la mia grande delusione. Ero convinta che certi miei film, per cui ero stata anche premiata, fossero un trampolino per fare del cinema importante, che poi non ho fatto. L'attrice ha quindi spiegato. Di solito si spicca il volo. Invece hanno iniziato a dirmi quella cosa insopportabile che dicono alle donne. Che sono difficile da collocare in qualche ruolo importante cinematografico o televisivo. Perché non dimostro l'età che ho. Giuliana De Sio, inoltre, in passato ha sofferto per un pettegolezzo circolante nello show business. E che la coinvolgeva in prima persona. La sua ascesa al successo è stata infatti frenata anche dalle dicerie circa il suo temperamento. Ritenuto da alcuni roccioso e assai scostante. Giuliana De Sio ha ammesso al riguardo. Mi ha fatto molto male. Giuliana De Sio si smarca dai rumors ricorrenti. È una calunnia. L'attrice ha quindi argomentato. Questa diceria. Che sono una persona impossibile. È una calunnia. Una calunnia non meno grave di quella che ha subito Mia Martini sul fatto che portava sfortuna. Giuliana De Sio ha infine concluso. È una cosa che mi ha fatto molto male. Davvero molto male. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.